Io sinceramente ragazzi non lo so se all'orego sto ritmo di due video al giorno Forse non ci sono ancora abituato ma ve assicuro che è una faticaccia Ma andiamo nel frattempo la sigla così mi riposo, prendo fiato e poi partiamo a raffiga dai Pronti? Bentornati ragazzi, bentornati da Carmisercialo, benvenuti perché so che il 40% di chi visualizza questi video Ultimamente non è iscritto al canale e se sei un fatto allenatore ti invito ad unirti alla nostra community Che è attiva non solo tramite i video che io pubblico ma anche tramite la sezione commenti Quindi mi raccomando qua sotto dite la vostra, scambiatevi un po' di pareri È una bella community proprio per questo Ringrazio anche tutti coloro che stanno anche attivando l'abbonamento gratuito con Amazon Prime su Twitch È gratis praticamente quindi sostenete il canale senza uscire una lira Come? Tramite Amazon Prime, hanno un'affiliazione collegate l'account e potete abbonarvi gratis Vi aggiungo al gruppo Telegram dove si scambiano pareri sul Fandacalcio C'è anche se non sbaglio la, ci sarà la lega privata diciamo con gli abbonati Quindi mi raccomando oltre alla lega pubblica ci sarà quella con i sub Quindi vi aspetto anche lì Detto questo mi raccomando Prendete come sempre i consigli con le giuste pinze Vi ricordo che sono provvisori Soprattutto per questi low cost Alcune sono scommessine da prendere a poco State attenti alla valutazione Ok? Non ci aspettiamo chissà cosa Ma attenzione perché alcuni di questi acquisti si riveleranno decisivi per il nostro Fandacalcio Va bene? E allora andiamo a vedere il file Anzi, devo anche spiegare una cosa perché alcuni stanno avendo i soliti problemi Di cosa si tratta? Vediamo un po' Allora qua siamo nel drive Voi mi dite da dove gli scarico questi file che tu ci mostri Ma poi ci mostri dei file e invece ce ne sono altri No ragazzi Ad esempio questo difensori top Non sembra mai quello che vi ho portato stamattina nel video Quindi cosa fate? Tasto destro e scaricate Ok? Lo scaricate e poi lo aprite nel vostro dispositivo Quindi lo potrete modificare nel vostro dispositivo Non cercate di modificarlo sul drive Perché vedete proprio adesso mi è arrivato un'email di qualcuno che sta provando a modificare il file sul drive Vi devo spiegare tutto praticamente Poi che succede? Dopo che avete scaricato Ovviamente ragazzi come vedete qua c'è quello mantra Il file definitivo per il mantra vuoto Qua quello per il classic vuoto Quindi lo potete riempire con i vostri nomi E qua c'è quello che vi sto diciamo pubblicando In più ci sono anche altri file che vi saranno magari utili al Fandacalcio Il tutto in fondo alla descrizione del video C'è il file Perché in fondo? Perché così guardate anche gli altri link che sono comunque pure utili Va bene? Detto questo Che succede? Andiamo ad aprire il file Ok Apriamo il file Vedete? Bello Il casino che c'è per compilarlo non avete idea Quando aprirete il file Magari vi risponda questo Il listone E voi dite Ma questo è un altro file No ragazzi Da qua sotto in basso se vedete C'è il listone C'è i portieri Ci sono i portieri Con tutta la griglia Tutte cose Esagerato il file E poi i difensori Guardate che lavoro c'è qua ragazzi Enorme Enorme Vi dico solo che sono 18 Per 4 Sono 72 72 nomi Più 11 83 nomi Iscritti E che analizzeremo Alcuni li abbiamo già analizzati nei top Nel video di stamattina Adesso faremo i low cost Quindi Per una lega 10 Con questi nomi Vi riempite sicuramente Perché 8 per 10 Vi fate di sicuro la difesa Ovviamente Qual è il trucco? Cercare di Di pigliare Di prendere I migliori No? Quindi cercate di Mantenervi più in alto A sinistra Pagandoli però Quanto quelli A destra Questo è il trucco Cioè dobbiamo prendere Giocatori che possono comunque Rendere bene Pagandoli di meno Allora C'eravamo lasciati se non sbaglio Conizzo Fino ad Ansaldi Se non vado errato Ripartiamo da Cumbullar ora Cumbullar Ho messo un asterisco Attenzione perché Chi non guarda il video Chi userà solo il file Non saprà il motivo Di questo asterisco Che è semplicemente Legato al mercato Non al ballottaggio Perché lui sarà Eventualmente titolarissimo E può valere Anche abbastanza bene Perché è forte A livello di modificatore È molto utile Però attenzione Alle voci di mercato Dipende quando fate l'asta Avrete già la certezza Della sua permanenza Birag invece Molto utile A livello di bonus Spinge parecchio L'anno scorso è stato anche Un buon difensore Diciamolo Quando era nelle file Dell'Inter Quest'anno Al momento Non è inserito Un asterisco Per il ballottaggio Ma non è detto Che sarà sempre titolare Ovviamente Non vi aspettate sempre Costanza nelle valutazioni Però qualche sorpresa Interessante Ve la potrà dare Quindi Magari i 10 crediti Ci possono anche stare Per lui volendo Gaiolo Invece affidabile In termini di valutazione E anche di bonus Perché È sempre pericoloso Spinge parecchio Comunque si trova sempre In situazioni un po' Anche fortunose A volte E trova il modo Di portarvi dei bonus Rodriguez invece Una scommessa Ragazzi Infatti La dovevo mettere qua Nel viola Oppure fare come L'anno scorso Che mettevo Il colore viola Quando un giocatore Non mi convinceva troppo Ragazzi Attenzione Perché Forse da prendere In coppia con Nonsaldi Ci potrebbe stare Io mi manterrei Con lui Sotto i 10 crediti Non l'arriverei Al 2% Perché Mi sembra Un po' Un rischio Cioè non so Che tipo di rendimento Potrà avere Valido con i piedi Potrebbe calciare Le punizioni ogni tanto Creare qualche occasione Con qualche cross Quindi qualche assist Ma non vi trascinerà Fanta calcio A mio giudizio Bruno Alves Stesso rendimento Dell'anno scorso Buono per il modificatore Non eccezionale Come qualche anno fa Ma il suo Lo potrà ancora dire Sotto i 10 crediti È un buon acquisto Magari ve lo portate a casa Con 6-700 milioni Male non è Glick Stesso discorso Il problema è che è un po' più Altisonante come nome E potrebbe portare qualche gol Ha segnato addirittura Con lo Apolonia Vedete Quindi Già il vi consiglio A Fanta calcio A lui l'ha portato fortuna Meno un po' A Zaniolo E a Lazovic Quindi qualche gol arriverà Ma così come arriveranno Una valanga di ammunizioni Ragazzi Quindi sappiatelo Se avete free play Non utilizzatelo Se avete modificatore Non è proprio eccezionale Per chi utilizza Magari bonus particolari Per i gol dei difensori Quello sì Perché qualche gol Super linea attiva La farà Ibagnez Giocatore in rampa Di lancio Si si può dire Perché Ha fatto bene Nel finale di stagione L'anno scorso Sempre un po' più titolare Vedremo L'asterisco è soprattutto Legato al mercato Perché dovrebbe essere titolare Se non dovesse arrivare Qualche altro difensore Quindi potrebbe appunto Giocar titolare spesso E vale Magari ve lo pagate Anche molto meno Io ho messo qui Sotto il 2% Ma potreste anche Prenderlo a 1 Qualche credito Quindi attenzione Poi Luis Felipe Invece molto più affidabile In termini di valutazione Quindi buono per il modificatore Ogni tanto anche lui Qualche cartellino Qualche insufficienza La prende Però Ogni tanto anche Non è titolare sempre Quindi forse qui L'asterisco Potremmo anche inserirlo Però Diciamo Ci può stare Tra i panchinari Larsen invece In teoria Larsen Ho fatto un errore Lo dovevo mettere Un po' più in alto Rispetto a questi nomi Che ho appena citato Perché è un giocatore Che mi piace un po' di più Spinge parecchio Quindi Parosalmente Consideratelo Migliore di questi nomi Appena citati Gioca praticamente In un ruolo Un po' più offensivo Quindi qualche bonus Arriverà Mario Rui Stesso discorso Anche lui Valore secondo me Migliore degli altri Qui Per questi due nomi 10 crediti Non sono buttati Il 2% Si può anche Raggiungere In alcune leghe Probabilmente Li prenderete a poco Soprattutto Mario Rui Perché è un po' sottovalutato Per il nome Perché fa un po' cagare Nel senso Non che il nome Mario Rui Ma perché in passato È stato inaffidabile Come giocatore Sta migliorando Sta decisamente migliorando E qualche bonus Lo potrà portare Tomiyasu Invece È buono per il modificatore Qua iniziamo a scendere Di prezzo E i rilanci Devono scendere E per chi Attenzione Fa il Fanta Calcio A quotazione Cioè non parte Da un Fanta Milione Ma parte Dalla quotazione Come si deve Identificare In questi crediti Ovviamente sono Decisamente soggettivi Deve identificare L'analisi Che faccio sul giocatore E pensare che Quando metto Un Fanta Milione Vuol dire Prezzo base In quel caso Quindi la quotazione Un percento massimo Rilancio Di uno Due crediti Poi gli altri Si può rilanciare Qualcosa in più Quindi valutate In questi termini Dicevo Tomiyasu Bravo Anche in teoria Di testa Non ha segnato Tanti gol Però può essere Comunque decisivo In quell'aspetto C'è da capire Se verrà utilizzato Come terzino A destra O centrale Si alternerà In questi due ruoli E questo potrebbe Anche prendergli Un po' di confusione Perché potrebbe Alternarsi In entrambe Le posizioni Bruno Perez Invece Scommessa Attenzione Una cosa Che mi preme dire Alcuni nomi Non li leggerete Vedete Silvestri Anche qualche altro nome Tranquilli Li inseriremo Tempo al tempo Questi sono Diciamo quelli Che in maniera Un po' anche Frettolosa Ho dovuto riempire E che andrei Magari a prendere In lega 10 Ma alcune Non li andrei a prendere Sinceramente Li vado a selezionare Per bene Però ho inserito Questi Possono anche Eserci altri giocatori E questi andranno via Ovviamente anche il mercato Cambierà un po' di gerarchie Dicevo Bruno Perez Bella scommestina Forse da prendere In coppia con Florenzi Complessivamente Per un costo Di 10 Fanta milioni Vi portate a casa Il terzino destro Della Roma Che poi può giocare Anche a volte A metà campo Bani Buono per gol È forte di testa Su pallina attiva Qualche gol Lo porta Un po' di scontinuo A volte con le valutazioni Da X invece Migliore A livello di valutazioni È arrivato Sta arrivando Un giovane Hickey Mi pare che si chiama Scommestina interessante Che gli può dare Un po' di ballottaggio Però da X al momento Parte come titolare E non è male Nguintic Invece buono per i gol Perché è sempre pericoloso Sui calci d'angolo A livello di valutazioni Media voto Se non ricordo male Vicino al 6 Comunque Non è eccezionale Per il modificatore Ma non è neanche Sto disastro Come magari altri Difensori Dell'Udinese Quindi ci può anche stare Ma la sua prerogativa È quella di poter segnare Magari su calci d'angolo Ghiglioni Attenzione Una delle scommestine Di questa stagione Perché o meglio Lo era già Nello scorso anno E un po' L'avevamo mazzaccato Solo che poi Non ha giocato più Per una buona fetta Di campionato Verso la fine Dovrebbe essere comunque Lui il titolare A destra Ed è veramente Eccezionale Con i cross Ragazzi Come cross a lui In Italia Ce ne sono pochi In Serie A Veramente Ha un cross Bellissimo E vedremo Se verrà sfruttato Però dagli attaccanti Del Genoa Io lo consiglio Tra gli ultimi slot Ci può stare Se avete soprattutto Un reparto Abbastanza solido Stesso discorso Per Letizia Anche lui Potrebbe portare Qualche bonus Un po' più Sicuro forse Del posto Quindi Come titolare Da ultimi slot Ci può stare Jacoponi Che in realtà Potevo mettere Anche più in alto Di Letizia Di qualche altro Nome citato prima Perché è abbastanza Affidabile Nel mantra Ancora più valore Perché ha sia Il ruolo centrale Che di terzino Destro Buono Diciamo anche Per il modificatore Il 6 comunque Spesso se lo porta a casa Non sempre Prende un po' di ammunizioni Questa è la sua pecca A qualche fantamilione Non rilanciate troppo Va benissimo Conti invece Una sorta di scommessina Perché potrebbe portare Dei bonus Quindi potrebbe spingere parecchio Avrà un po' di ballottaggio Sia con Calabria Ma c'è anche Il giovane Calulu Un po' di ballottaggio Ci sarà Su quella fascia Però c'è da capire Se effettivamente Conti sarà titolare Una scommessina ragazzi Prendetelo solo Se avete Un reparto già solido Yoshida invece Come panchina Ci può stare In realtà Come ho messo L'asterisco Potrei anche toglierlo Forse l'asterisco Non mi ricordo Sono sincero Il motivo per cui l'ho messo Se per il ballottaggio O per altri motivi Sono sincero Secondo me Dovrebbe giocare titolare Un po' tutta la stagione Quindi Non considerate L'asterisco Lo tolgo Perché non mi ricordo Il motivo per cui l'ho messo Sono sincero E magari si è copiato Da qualcun altro Non lo so Fatto sta ragazzi Che Yoshida Potrebbe essere Un buon acquisto Da ultimi slot Giocare titolare Potrà prendere Anche buone valutazioni La sufficienza Magari Un 60% Delle partite Magari la prenderà Per quanto riguarda Ferrari Invece Più utile Per i gol Perché è forte Di testa Soprale inattiva Il Stassuolo Tra l'altro Essendo una squadra Molto offensiva Di calcio d'angoli Se ne dovrebbe conquistare Molti E questo aspetto Lo dovete tenere In considerazione Quindi i giocatori Come Ferrari Potrebbero portare I bonus Poi inserito Piccini Ragazzi Il nuovo acquisto Della Talanta Come vedete Spunta errore Perché nel listone Non è ancora aggiornato E a proposito Di listone Voglio dire una cosa C'è una sorta di difetto Per quanto riguarda Il menu a tentina Ad esempio A me Da quando ho aggiornato Il listone Non mi spunta Il menu a tentina Ma lo stesso file In un altro dispositivo In un altro computer Spunta il menu a tentina Quindi Credo sia la versione Di Excel Se non vi spunta Questa cosa È per questo motivo Ma non vi preoccupate Il menu a tentina Era una cosa in più Potrete utilizzare il file Perfettamente Anche senza Il menu a tentina Io ne ho fatto benissimo A meno Però proverò a risolvere Questo bug Con lo staff alle spalle Con Andrea Stiamo provando a risolvere Comunque Dicevo Piccini ragazzi Il video sta durando Un'eternità Ancora devo poi caricarlo Piccini ragazzi Valido Valido esterno Il problema è Va preso in coppia Con Hadebur Sarà il panchinaro Chi sarà il titolare Se alterneranno tantissimo Piccini Se lo portate a casa Pochissimo Tipo un fantamilione Due tre fantamilioni Se lo portate a casa Col pacchetto Hadebur Avrete l'esterno a destra E potrete avere Magari qualche soddisfazione Quindi Attenzione a questa possibilità Kyriacoplus Nome interessante L'anno scorso L'ho preso Credo nel mantra Come terzino Sinistro Non è male Potrebbe portare Qualche bonus Qualche buona prestazione Avrà un po' di Ballottaggio Perché lui Toljan e Mulder Sono tre Validi terzini Per due posti Quindi Toljan Diciamo al momento Dovrebbe alternarsi Sia con Mulder Che con Kyriacoplus C'è anche Rogerio In teoria Quindi Di nomi ci sono Vediamo Kyriacoplus Comunque ha fatto bene Quindi potrebbe Riconfermarsi il titolare Sono sincero Ci sono nomi più appetibili Non investirei più di un fantamilione Sono sincero Caldirola Bel Titolare scarso Che significa titolare scarso Ve l'ho spiegato stamattina Nella leggenda C'è messo C'è quei nomi Che voi prendete Semplicemente per la titolarità Non è che sono Quei scarsi Quei giocatori Ma magari sono di bassa classifica Come vedete Nella maggior parte Però li prendete Semplicemente per la titolarità Non perché vi devono fare bene A livello di valutazioni O in termini di bonus Quindi leghe numerose Sono un po' utili Questi giocatori Per la solidità Quindi Caldirola Potrebbe anche dare qualche gioia Magari su pallina attiva Attenzione Quindi non Non sottovalutiamolo Radu Titolare scarso Gialli a volontà Qualche buona prestazione Ma La sua funzione Massimo La titolarità Che tra l'altro Non è neanche sicura Quindi quasi quasi Lo andrei a togliere Poi lo piazzerei Come nei nomi extra Che vanno messi poi qua sotto C'è Pitelli Titolare scarso In teoria anche lui Ma ho voluto sottolineare Il fatto che comunque Su pallina attiva È molto pericoloso Quindi qualche gol Potrebbe farlo Con lei Altro titolare scarso Insieme a Yoshida Dovrebbe formare La coppia titolare Della Samb Non mi fa impazzire Come nome Ci sono giocatori Più appetibili Maggio Stesso discorso Però È anche un po' Avrà comunque La sua età Qualche bonus Lo può Portare Ma Non ci punterei Lo schierete comunque Non raramente Ecco Erlich Già mi ispira un po' di più Alto Forte fisicamente Può portare magari Qualche gol Sopra linea attiva Dovrebbe essere anche lui Titolare Nella Spezia Danilo In teoria Poteva essere ben più in alto Alla sua esperienza A livello anche di modificatore Non è male Però Io lo prenderei Solo come funziona Funzione Delle Diciamo Di titolarità Ok Semplicemente per quello Poi se fa anche Bene Come magari Bene tra virgolette Come la scorsa stagione Ci può anche stare Ancora meglio Marrone Marrone ragazzi Che giocatore è Un giocatore con i beni di dibuoni Un regista a basso Che gioca quindi In difesa Smisterà palloni E quando ci riuscirà bene Prenderà un buon voto Quando invece Rischierà A volte troppo Perderà dei palloni Sanguinosi Insomma Arriveranno le grosse Insuffizienze Quindi state attenti State molto attenti Gunther Titolare scarso Del Verona Potrebbe essere Un buon colpo In lega molto numerosa Lui come titolare Scarso Ultimo slot Ci può anche stare Prende anche Diverse buone valutazioni Ecco Rispoli invece Appena arrivato Al Crotone È un giocatore Che in passato Ha portato diversi bonus L'anno scorso Mi ha deluso Un po' A Lecce Come ultimo slot Ci può anche stare Qualche bonus Magari ve lo porta Soprattutto se gioca Al centrocampo Quindi Con la difesa 3 Lui gioca magari esterno Lì sarebbe abbastanza appetibile Tra gli ultimi slot Ovviamente Poi Tra le scommesse Romero Come vi ho detto Magari In qualche live Non mi ispira A livello Di aggregazione Con l'Atalanta Cioè non lo vedo bene Con la difesa alta Che gioca Che utilizza la Dea Quindi Sincero Forse in coppia Forse in coppia Con Palomino Jim City Potreste farci un pensierino Poi Maximovic Giocatore Anche qui Non è titolare Come vedete Qua sono tutti Gli asterischi Perché sono giocatori Che magari non partono Titolari Comunque saranno Costantemente In ballottaggio Maximovic Stesso discorso Innanzitutto c'è da vedere Se parte Cullibali Dopodiché poi potremmo valutare Se Va Va Preso Maximovic O in coppia Magari con Rachmani Potrebbe essere una buona opzione D'Ambrosio Invece Classico giocatore Ragazzi Che ogni anno I suoi golli li fa Potrebbe essere una buona scelta Portarselo a casa Perché comunque Gioca sia nella difesa A tre Che come esterno Panchinaro Sì Un Fandamilione va bene Più Già inizia A dar fastidio Con qualche rilancio Sono sincero Voivoda Invece Non so se si legga così Perdonatemi In caso Sia sbagliato Giocatore Anche qui Da prendere in coppia Forse Sono sincero Non so Che tipo di rendimento Potrà avere È valido Come giocatore Fa dei bei cross Fa degli ottimi cross Anche lui Quindi potrebbe essere Un bel Un buon affinamento Diciamo Potrebbero essere affini Con Belotti Con l'attacco Anche con Zaza Bei finalizzatori In teoria di testa Vedremo se funzionerà Questo asse Però Ci potrebbe stare Dai Ultimo slot Scommessina Ci può anche stare Bremer Invece Come vi dicevo Potrebbe togliere Poi il posto Potrebbe giocare Titolare Nel Torino Quindi ci può stare Anche per lui Forse è un fantamilione O qualcosa Di più De Viral Invece Già mi ispira Di più Preso in coppia Magari con Chiellini O con Bonucci O con Delict Può essere Un buon acquisto Le sue partite Le farà È un valido Giocatore Anche in termini Di valutazioni È buono Per il modificatore Può anche segnare Magari sul calcio D'angolo Il problema Sarà La schierabilità Non saprete Quando schierarlo Poi Rachmani Stesso discorso Perfatto per Maximo Potrete In caso di partenza Di Koulibaly Prenderli in caso In coppia Pellegrini Prenderlo in coppia Con Alexandro Ci può stare In leghe molto numerose Magari nel mantra Dove Andate a prendere Alexandro Come terzino Magari sinistro E vi coprite Anche con Pellegrini Come panchinaro Può portare De bonus Quanto titolare Ma Siamo sinceri Non dovrebbe giocare Chissà quante partite Ai nastri di partenza Ovviamente Toljan Coppia con Muldur Sì ma Parliamo sempre Di terzini Del sassuolo Quindi Non esagerate Ragazzi C'è senso In leghe numerose Anche qui Forse nel mantra Darmian L'ho inserito Pur Avendo voce di mercato Si parlava di Inter State un po' attenti Il suo Compitino Lo fa Sinceramente Tra le scommesse Uno di quelli Che mi ispira Un po' meno Forse Ayan Molti mi stanno chiedendo Ma Ayan 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 Ragazzi Non sappiamo Che tipo di Raventimento Potrà avere La difesa del sassuolo Non mi ispira Molto Il ruolo Diciamo Il reparto Che mi ispira Meno del sassuolo Sono sincero Quindi Lo valuterei Magari A stagione in corso Nell'asta di ottobre O in quella Magari di Di febbraio Poi se ve la sentite Di prenderlo adesso Come scommessina Io ve l'ho piazzato lì Ferrer Già mi ispira Un po' di più Solo che a voce di mercato Quindi Quell'asterisco Riguarda infatti Il mercato Perché è un giovane Veramente talentuoso Con Cioè Uno spagnolo Promettente Con Buoni piedi Potrebbe Regalare Qualche gioie Fanta allenatori Nel caso in cui Dovesse Restare Allo spezia Quindi Bella scommessina Eventualmente Faragò Faragò Ragazzi E' arrivato Zappa Loro due li analizzo Insieme Perché Faragò Parte come quello Che dovrà essere Titolare E' un giocatore Che comunque Porta bonus Non per forza Gol Per il nome Faragol Ma farà Anche qualche assist Probabilmente Ok Questa era pessima Per il resto Ragazzi In coppia Mi sembra un po' Esagerato Zappa Gli potrebbe togliere Magari il posto Piano piano E' un giovane Zappa ragazzi Terzino di spinta Goleador ha segnato Diversi gol Quindi potrebbe essere Intrigante Come scommessa Però dovete avere Già un reparto Veramente solido E poi Oggello Oggello invece E' un terzino Che dovrebbe togliere Il posto Credo a Murru Sulla sulla fascia Sinistra Spinge parecchio Un altro terzino Di spinta Potrebbe portare Anche qualche bonus Si alternerà Ogni tanto Quindi scommessine In leghe Molto molto Numerose Ok Ovviamente Questa analisi Sui low cost Sarà aggiornata Sia poi Post mercato Ci sarà Il mega aggiornamento Del file Con appunto Tutte le novità I giocatori nuovi Eccetera eccetera Ma anche in questi giorni Quando ci saranno Novità importanti Io andrò a aggiornare Un po' il file E ve lo caricherò Poi sul drive Va bene Per chi farà Magari l'asta La prossima settimana Ok Questa era l'analisi Sono stanchissimo Ragazzi Voce E gola secchissima Voglio sapere La vostra ragazzi Qua sotto nei commenti Come sempre Lasciate appunto Un vostro parere Se non siete ancora iscritti Vi ricordo appunto Di unirvi Alla nostra community Vediamo se arriviamo A 50.000 spettatori Sarebbe qualcosa Di epico Detto questo Ci vediamo Domani Ore 12 Con il video Sui centrocampisti E lì ragazzi Anche là Sarà tosta Sarà veramente tosta Ok Spero questo lavoro Vi sia piaciuto Come vedete 83 nomi Vi ho analizzato Solo per la difesa Qualcosa di assurdo Ma ce ne saranno poi altri Dai Ci vediamo domani Ciao ragazzi